Che cos'è il metatarso varo? Il metatarso varo, che è anche chiamato metatarso osaductus, descrive una condizione congenita che provoca la curvatura verso l'interno delle ossa nella parte anteriore del piede o dell'avampiede. Può influenzare ugualmente uno o entrambi i piedi. Esistono diversi potenziali motivi per cui questa condizione potrebbe verificarsi e la gravità del problema in genere non può essere stimata alla nascita. Invece, viene analizzato quando i bambini crescono e la gravità della curva viene valutata dalla rigidità della struttura ossea nell'avampiede. Alcuni bambini con questa malformazione lo superano, mentre altri possono richiedere interventi come esercizi, casting o interventi chirurgici. Si dice che condizioni come il metatarso varo causino il beccheggio dei piccioni, un termine che non è sempre usato perché potrebbe avere connotazioni negative. È, tuttavia, una descrizione utile per comprendere l'aspetto di base di un piede colpito, sebbene la curvatura verso l'interno debba essere intesa come proveniente dal centro del piede anziché dal tallone. I pazienti con metatarso varo non presentano malformazioni alle ossa del calcagno, a meno che non presentino difetti aggiuntivi. Questo problema congenito è stato attribuito a poche cause potenziali. Può verificarsi in utero a causa di una posizione di culata persistente del feto, che potrebbe non consentire alle osse nell'avampiede di crescere dritte come dovrebbero. In alternativa, troppo poco liquido amniotico è stato associato a più alti tassi di metatarso varo. Alcuni medici credono che la curvatura possa risultare in qualsiasi momento in cui un piede viene schiacciato in una posizione nell'utero dove non può normalmente svilupparsi. Neonati o neonati un po' più grandi sono abbastanza facili da diagnosticare con questo difetto congenito a causa dell'aspetto del piede. In un primo momento, è difficile prevedere quale trattamento, se del caso, è necessario. Quando il bambino cresce, a volte la zona curva si irrigidisce, ma in molti bambini il piede rimane libero e il metatarso varo può autocorreggersi. I medici consigliano spesso piccoli esercizi che i genitori possono fare con i bambini per incoraggiare la crescita e la modellatura più dritte delle ossa dell'avampiede. Si potrebbero anche consigliare scarpe correttive. Se lo stretching e le calzature terapeutiche non funzionano, si può prendere in considerazione un trattamento aggiuntivo quando i bambini hanno un'età compresa tra i 6 e gli 8 mesi. L'approccio più riconosciuto è quello di lanciare il piede o i piedi del bambino per affrontare lentamente l'insolito modello di crescita. Una serie di calchi, sostituiti ogni una o due settimane, aiutano gradualmente a raddrizzarsi. In molti casi, questo trattamento per il metatarso è efficace. Ha anche il vantaggio di verificarsi in un momento in cui la maggior parte dei bambini non sta ancora camminando. Per una piccola percentuale di bambini, il casting non funziona completamente e il problema potrebbe rimanere. In questi casi, i medici possono raccomandare la correzione chirurgica. Di solito, la chirurgia non viene tentata fino a quando i pazienti hanno almeno 4 anni. Grazie. Grazie.